Riprendiamo con la parte 2 di Rembrandt. Scusate ma non mi ero accorta che fossero già passati i 15 minuti. Stavamo dunque parlando della ronda di notte. Avevamo già detto che è il più grande dipinto mai svolto da Rembrandt in quanto le sue dimensioni siano 3,63 x 4,37 metri. Il pittore l'ha dipinto nel 1642 con la tecnica olio su tela e oggi è conservato al Rijksmuseum di Amsterdam. La ronda di notte fa parte di un ciclo di 6 grandi tele commissionate a vari artisti di Amsterdam per celebrare in chiave pittorica l'ingresso in città di Maria de' Medici nel 1639. In particolare questa fu commissionata a Rembrandt da Franz Banninkock che è il protagonista di questo quadro. Diciamo che è il signore che si può identificare come il signore con la barba in primo piano col cappello nero e con la mano sinistra che protende verso di noi, quasi a voler distruggere lo spazio che ci divide. Un altro protagonista, oltre al capitano Koch, è il luogotenente Willem van Rutenburg. Questi due personaggi principali sono circondati da 15 archibuggeri. L'intenzione di Koch era chiaramente quella di far risaltare il suo potere militare, diciamo, di darsi importanza. Per questo è rappresentato, mentre guida, diciamo, questa piccola spedizione di archibuggeri, i cloveniers, verso una meta non specificata. Nel dipinto si può individuare un autoritratto di Rembrandt, che poi vi farò vedere meglio ingrandendolo, che si trova molto in secondo piano, di lui si vede solo un occhio, è quasi impercettibile questa presenza. Oltre agli archibuggeri e all'intruso Rembrandt, c'è anche un messaggio allegorico. La fanciulla, la bimba, che, diciamo, è in secondo piano, ma risalta a causa della sua luminosità e dai colori con cui l'artista ha deciso di immortalarla. La fanciulla si può dire che è la mascotte stessa degli archibuggeri. Questo si può dedurre dal colore giallo, che spesso allude alla vittoria, al calice che tiene in mano e agli artigli del pollo, che sono fissati alla cintola della fanciulla. La composizione è molto dinamica e forse questa non dipende solo dalle posizioni che Rembrandt ha assegnato a ciascuno dei personaggi, chi carica l'archibugio, il fucile, chi brandisce le armi, chi si prepara alla marcia, ma anche dai due bambini che corrono in direzioni opposte, la fanciulla già citata e il bambino alla sinistra. C'è un altro elemento forte di dinamismo e, diciamo, di quotidianità quasi, il cane sulla destra in basso che trotterella in mezzo agli archibuggeri. Un altro simbolo allegorico dell'impresa marziale di Koch è la corona di foglie di quercia che indossa il ragazzo alla destra della fanciulla. La mano di Van Ninkock, come ho già detto prima, si pretende in avanti e crea uno spazio virtuale che sembra quasi fuoriuscire dal quadro. Questo è un effetto notevole, un merito che si deve riconoscere all'artista, insomma, in quanto con la prospettiva del braccio si è riuscito a collegarci in qualche modo al dipinto. Questo quadro è caratterizzato da pennellate libere che donano un effetto materico, quasi grumoso. Dopo, con degli ingrandimenti, si vedrà molto meglio. Ho letto anche sul web che Rembrandt si, diciamo, utilizzò anche la tecnica della spatola e addirittura delle dita in alcuni casi. La luce, proveniente da sinistra, si sofferma sui personaggi principali e sui dettagli che il pittore voleva far risaltare. Qui vediamo dei particolari della ronda di notte. Ho voluto fare uno zoom sull'autorizzato di Rembrandt in quanto io all'inizio non l'avessi visto. Quindi, in mezzo a questi due uomini si può intravedere lo scorcio di un occhio e di una fronte. Si presume, appunto, che siano quelle del pittore. La firma, qui in basso, sul gradino sotto la fanciulla e la fanciulla, appunto. Qui, in particolare, il viso e il pollo attaccato alla cintola. Intorno ai soggetti che volevo evidenziare è presente un grigiume, diciamo. Questo è solo a scopo di far risaltare, appunto, di più quello di cui sto parlando, ecco. Però i colori originali sono comunque quelli che si sono visti prima nella tela. Un altro particolare di cui appunto ho già parlato è la mano di Koch, che qui in alto a destra possiamo vedere molto più da vicino. Bene, passiamo alla prossima opera. La famosissima lezione di anatomia del dottor Tulp. Questo è il primo ritratto di gruppo eseguito da Rembrandt e gli dà una celebrità immensa. Lo svolge ad Amsterdam. Questo ritratto, diciamo, che è un po' particolare, perché è avvenuto in occasione di una dissezione, diciamo, di un cadavere, di un criminale, in pubblico. Rembrandt aveva solo 26 anni. L'opera è un po' teatrale. Questo si può dedurre dalle espressioni dei testimoni che stanno, diciamo, partecipando a questa dissezione e a dei particolari che non coincidono col vero. Per esempio, il dottor Tulp era un dottore di fama nazionale, non si sarebbe mai sporcato le mani preparando il cadavere. Questo era compito del preparatore, che però nel dipinto non è rappresentato. Questo quadro è un'enorme opera di genialità, a parer mio. Infatti, Rembrandt diciamo, fa mimare al dottor Tulp i movimenti con la mano che l'uomo riesce a compiere grazie ai tendini. Lo stesso movimento è quello fatto dall'artista per reggere il pennello. Questo è un significato allegorico che compara sullo stesso piano l'arte e la medicina e esprime, diciamo, ammirazione per tutte e due le archi. In fondo, dietro all'uomo in piedi, si può notare la firma di Rembrandt per esteso. La prima volta che firma per esteso. Infatti, all'inizio firmava solo con le iniziali. Probabilmente, consapevole del fatto che questo dipinto gli avrebbe dato una fama internazionale o comunque nella speranza che poi sarebbe stato così, ha deciso di firmarsi per intero. Vediamo ora dei particolari. Ecco qui, i tendini dipinti con estrema maestria per un ragazzo di soli 26 anni vicini all'ombelico del cadavere. Non sembra l'ombelico una R forse? Curioso particolare questo. Qui dei dettagli della mano del dottor Tulp, delle espressioni stupite e concentrate degli altri dottori o comunque dei testimoni, il dottor Tulp in primo piano in basso a destra e la firma per intero dell'autore. Bene, la presentazione è finita, grazie per l'attenzione, arrivederci.